Musica Martedì 24 gennaio 2023, buongiorno, ben ritrovati dalla redazione di Teleregione in apertura della nostra rassegna stampa il bollettino Covid diramato dall'azienda sanitaria regionale del Molise. Fortunatamente non si registrano decessi, 4 invece i ricoveri, 3 in malattie infettive, 1 in terapia intensiva, 2 dimessi, 13 pazienti attualmente ricoverati al Cardarelli di Campobasso, 30 i nuovi positivi, 6 a quello molecolare, 24 l'antigenico, tasso di positività al 15,4%, 65 i guariti, quindi il numero degli attualmente positivi che scende a 1822. Iniziamo la nostra rassegna stampa, come di consueto partendo dal regionale Primo Piano Molise, nel taglio alto troviamo la sanità, Gemelli non può più prescrivere radioterapia, lo ha deciso il commissario per potenziare il monitoraggio della proprietà delle prestazioni. La competenza passa a oncologia dell'ospedale di Campobasso, il decreto entra in vigore oggi, l'ASREM ha 15 giorni per attuare le nuove linee guida. Proprio sul tema andiamo all'interno di Primo Piano Molise, nel taglio alto radioterapia, la decisione di Toma, solo il Cardarelli può prescriverla, il decreto che esclude il Gemelli operativo. Fra 15 giorni nel centro pagina, poi morì di Covid, all'ospedale di Campobasso, sotto accusa i periti del Tribunale Civile riscontrano carenze organizzative e condotte mediche inadeguate. Stamani il sit-in del comitato, il bollettino, l'abbiamo letto anche in apertura, quattro ricoveri, altro paziente in intensiva, 1822 gli attualmente positivi. Nel fondo pagina il punto, a firma di Michele D'Alessandro, una regione ferma per neve i disastri del creato non curato. Torniamo in prima pagina, sempre sul regionale Primo Piano Molise, nel centro pagina, mille proroghe, Toma, ho scritto io gli emendamenti presentati da Lotito, puntano a spalmare il debito della regione in 30 anni. Emergenza pandemica, pesanti ombre sul Cardarelli, dalla relazione dei periti del Tribunale emergono omissioni, deficienze organizzative e pessima gestione clinica dei pazienti. Il bando nel taglio laterale, 16 milioni del PNRR per chi produce idrogeno. Elezioni centrodestra, Di Sandro convoca il tavolo, summit venerdì 27 gennaio. Omicidio Giancola, altro sopralluogo dei RIS, prelevato un ciocco di legno a casa della vittima. Nel taglio laterale, ancora il punto, firma di Rita D'Addona, comunicazione nuovi e imprevedibili orizzonti. Nel fondo pagina, la lettera, mia figlia sul bus, io e suo padre in pena per ore, Molise stanco, di sopportare, ancora, sempre nel fondo pagina, l'orso più simpatico, discolo d'Italia, è morto Juan Carrito, investito ieri sera da un'auto a Castel di Sangro. Nel taglio alto, come sempre, lo sport, Campobasso, domani alle 15, il match di recupero contro il Castel di Sangro. Vasto Girardi, Alto Molisani, tra scarsa concretezza ed evidenti errori arbitrali. Termoli, Montaquila risponde alle critiche dei difosi per il K.O. Dovreste sostenerci di più, ha dichiarato il Presidente. Adesso sempre con i quotidiani regionali, passando però a quegli abruzzesi, con il centro. Nel centro pagina, tangenti e pratiche auto, 11 neguai, pescaresi coinvolti nell'inchiesta, sulla motorizzazione di Chieti, il PM. Tutti a processo, l'abbiamo letto anche sul primo piano Molise, nel centro pagina, Juan Carrito, ucciso da un'auto, addio al simbolo d'Abruzzo. Animali uccisi, sequestrato il canile, pescara l'inchiesta con due veterinari indagati, testimonianza chiave di un dipendente. Ancora i quotidiani regionali, questa volta la pagina d'Abruzzo del messaggero. Nel taglio alto, Carrito, dolore e polemiche, tanta commozione per la morte dopo un investimento dell'orsetto ribelle. Uno tra i simboli d'Abruzzo, il senatore Guido Liris, non abbiamo saputo difenderlo. Alle costarelle dell'Aquila, il boss Messina Denaro rimossa l'opera di street art vicino al carcere. Nel taglio laterale, i giocattoli cinesi tossici, Maxi, sequestro a Pescara, bloccati dalla Guardia di Finanza, oltre 317 mila pezzi contraffatti, denunciato per frode il grossista. Nel centro pagina, il maltempo, soccorsi in elicottero, valle Castellana isolata, dalla caduta di due slavine. Dai quotidiani regionali, passiamo adesso a quelli nazionali, come sempre partendo dal Corriere della Sera. Nel centro pagina, gas, accordi anti-Russia, l'Unione Europea aiuti ai militari a Kiev, l'Avrov, la guerra con l'Occidente è quasi reale. Meloni firma i progetti ad Algeri, descalzi dell'Eni, liberi da Mosca entro il 2024, dalle 19 però i benzinai andranno in sciopero. Nel centro pagina ancora in maltempo, allerta in cinque regioni. Per tutta la settimana, l'Italia sotto la neve, disagi e tante scuole chiuse. Nel taglio alto ha arrestato il geometra Andrea Bonafede e così prestò l'identità a Messina Denaro. Dal Corriere della Sera, uno sguardo anche alla prima pagina della Repubblica. Nel taglio alto, Meloni frena Nordio, intercettazioni, la Premier interviene sul giro di vite minacciato dal Guardia Sigili e impone lo stop agli scontri con IPM antimafia. Slitta il DDL sull'autonomia regionale del Ministro Calderoli, i governatori del Sud sul piede di guerra contro il progetto. Rottura tra il governo e i benzinai da stasera lo sciopero di 48 ore. Nel centro pagina poi il reportage, Gli ultimi schiavi del Brasile. Nel taglio alto poi Gionelcan, a vent'anni dalla morte, da mio nonno Gianni Annelli, la lezione della responsabilità. Dalla Repubblica, uno sguardo anche alla prima pagina del Messaggero, stop al gas russo entro il 2024, descalzi dell'Eni, siamo gli unici connessi con il Nord Africa, serviremo l'Europa. Il Premier sigla il patto con l'Algeria, sarà un mix energetico di metano e rinnovabili. Expo 2030, il primo osame per Roma, tutta Italia sostiene la candidatura, il segretario incontra il governo. Appoggio a Nordio anche da Berlusconi, Meloni e la mano tese magistrati. Riformiamo la giustizia insieme. Nel centro pagina ancora, Dio ha carrito all'orso di città, ucciso da un'auto, travolto a Roccaraso, l'imprendibile Juan che raziava le pasticcerie. E poi nel taglio laterale ho chiesto aiuto, mi hanno detto di no, e il bimbo è morto, la mamma del neonato soffocato, dicono che avevo firmato per tenerlo in stanza. Ma è falso. Dal Messaggero uno sguardo anche la prima pagina del tempo. Nel taglio alto, governo al lavoro, Italia libera dal gas russo, Meloni ed Algeri, sigla accordi per importare più metano, indipendenti da Putin nel 2024. L'obiettivo è diventare hub di approvvigionamento dell'Unione Europea. Riavviato il piano Mattei, che ci farà tornare al centro del Mediterraneo. Nel centro pagina, D'Alema, pronto a tornare nel PD, i democratici vanno nel panico. Ancora il centro pagina, GAF di D'Amato su Amatrice, annuncia la ricostruzione dell'ospedale che doveva essere pronto nel 2022. Riforma della giustizia, anche il Cavaliere Blinda Nordio, da Forza Italia, sostegno convinto. Nel taglio laterale, protesta contro le norme sui prezzi. Da stasera, benzinai chiusi per due giorni. L'esecutivo è nodo balneari, no al rinvio delle concessioni, si lavora a soluzioni strutturali. Dal tempo, uno sguardo anche alla prima pagina del Fatto Quotidiano. Nel centro pagina, il pregiudicato contro i PM, antimafia in Parlamento. Garantisca con me, Meloni ancora costretta a correggere il Ministro, basta lotta ai magistrati. Nel taglio alto, Messina Denaro, arrestato il vero Bonafede. Sulla 29, solo Matteo Messina Denaro può fare gli autogrilli. Intervista a Gratteri, intercettazioni, Nordio fa solo regali alle mafie. Dal Fatto Quotidiano, uno sguardo anche alla prima pagina del malifesto, mal di Panzer nel centro pagina. Ci servono 300 tank tedeschi, non 10 o 20. L'Ucraina reclama il Leopard. In Germania, un ministro dice sì e un altro forse. Polonia e i paesi baltici, intanto, spediranno i loro, quasi come una sub-NATO. Il russo Lavrov avverte la guerra con l'Occidente. Ormai è quasi in realtà. Nel centro pagina, sciopero dei benzinai, Meloni a secco, il pasticcio degli accise, la protesta dei distributori, da oggi alle 19, per ben 48 ore. Concessioni balneari, l'Unione Europea pressa, maggioranza invece che è divisa. Roma, neonato morto, nel fondo pagina al Pertini, sindaga per omicidio colposo. Italia, Etiopia, scoperti armi illegali, dirette da Addis Abeba. Dal manifesto, uno sguardo anche alla prima pagina della verità. Nel taglio alto il Covid, la pronosticata ondata cinese non c'è, tanto terrore per nulla, crollano i già bassi numeri dei contagi, morte e ricoverati per Covid, soprattutto nelle terapie intensive. Nel centro pagina, la RAI obbedisce a Zelensky, mette i canoni tra i fiori di Sanremo. L'Italia, AB europeo per l'energia, paesi del nord pronti allo sgambetto, il premier d'Algeria lancia il piano Mattei, ma abbiamo bisogno di USA ed Egitto. Uno sguardo anche al quotidiano economico del sole 24 ore. Nel taglio alto, Meloni, ecco il piano Mattei per l'Algeria. Bonomi, un ponte tra le due economie, descalzi ancora nel taglio alto, così Algeria sostituirà il 50% del gas della Russia. Nel centro pagina, successo oltre l'altese per il bond retail dell'ENI, domanda per 10 miliardi, visco sulla BCE, migliori la comunicazione, diamo messaggi troppo duri. Prima di chiudere, come sempre uno sguardo anche al quotidiano sportivo della Gazzetta dello Sport, nel taglio alto il mercato, salto all'attaccante Zagnolo, il Milan ci riprova, e poi il posticipo di ieri, festa Empoli, Champions a rischio, disastro Inter, Scrini ha respolso, va verso l'addio, decide Baldanzi, Inzaghi sbaglia tutto, precipita a meno 13. Poi l'inchiesta, la UEFA alla Juve, basta Superlega, dialogo con l'Europa, ecco le richieste ai nuovi dirigenti. Prima di chiudere, uno sguardo anche il nostro palinsesto, alle 11 fuoco incrociato, alle 14 la nostra informazione in diretta con il telegiornale, 14.45 un caffè insieme, alle 16 fuoco incrociato, alle 18 ca in Milano Molise, 19.30 la nostra informazione con il telegiornale, alle 20 Italia Economia, alle 21 Paese Mio, alle 23 l'ultima edizione del nostro telegiornale. E non mi resta che salutarvi, vi ringrazio per averci scelto tutti voi, un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.